L'ultima canzone dell'album è una specie di riassunto dell'album stesso, è una preghiera, una sorta di invocazione, un'invocazione ad un'entità parentale, come se fosse una mamma, un papà, molto più grandi, molto più potenti. Noi di solito identifichiamo queste entità parentali immaginate così potentissime con una divinità, le chiamiamo Dio, le chiamiamo Signore, le chiamiamo la Madonna. In questo caso l'invocazione è perché si accorgano di tutti i torti che hanno subito le minoranze da parte delle maggioranze. Le maggioranze hanno la cattiva abitudine di guardarsi alle spalle, di contarsi, dire siamo a 600 milioni, siamo un miliardo e 200 milioni. E approfittando del fatto di essere così numerose, pensano di poter essere in grado, di avere il diritto soprattutto di vessare, di umiliare le minoranze. La preghiera, l'invocazione si chiama smisurata proprio perché è fuori misura e quindi probabilmente non sarà ascoltata da nessuno, ma noi ci proviamo lo stesso. Grazie.